A Mascali il conto consuntivo dopo i nuovi rilievi mossi in consiglio comunale da Carmelo Caltabbiano la settimana scorsa non tornerà in giunta. Infatti gli uffici stanno predisponendo solo un emendamento tecnico sulla lista di carico relativa al canone idrico. La mancanza della quale per Carmelo Caltabbiano, posizione sulla quale sono poi convenuti il collegio dei revisori dei conti e l'esperto del sindaco per la materia finanziaria Giuseppe Cardillo rendeva impossibile approvare il rendiconto del 2015. Giovedì dunque si torna in aula per l'approvazione. L'opposizione è considerata la straordinaria importanza dell'atto che garantisce peraltro la sopravvivenza stessa del civico consesso non dovrebbe fare particolari ostruzionismi, però è chiaro che la maggioranza del sindaco Luigi Messina deve ritrovare una sua autonomia nei numeri in aula, cosa che negli ultimi tempi è mancata. In queste ore Luigi Messina sta lavorando in questa direzione, nella speranza di ritrovare maggiori certezze per la sua amministrazione dentro il consiglio comunale.